Siamo a San Pietro Almaida in provincia di Catanzaro in Calabria e come potete vedere ci troviamo in località corta Monte Contessa a circa 700 metri sul duverno del mare dove c'è un mega impianto eolico da 44 MHz e come potete guardare qui vicino all'orizzonte c'è posizionato un nostro impianto di Paoloni a Cotevisa 2. Queste piante sono state messe a dimora lo scorso anno, non abbiamo ancora effettuato il taglio tecnico e si può notare uno sviluppo giusto, corrente, adeguato della pianta nonostante ci troviamo.